Se tu continui a difendere queste persone, non riesco proprio... Grazie per il tenere. Non so come si chiama questo signore. Io sono stato il primo che ho criticato gli Ultras nell'epoca della diserzione e degli attacchi ai materrese. Per cui ho preso anche mazzate per questo. Per cui tu mi vieni a dire oggi delle fesserie. O non conosci i fatti oppure ti stai zitto perché hai fatto dieci minuti di telefonata, non hai detto una cosa concreta. Se fossi io Tamborra non ti avrei dato neanche la possibilità di parlare perché ho portato dei contenuti quando telefonate oppure state zitti. È inutile che telefonate inutilmente. Bisogna dar merito agli Ultras comunque di essere stati sempre vicino alla squadra anche nei momenti bui hanno comunque sempre presenziato all'Alza Nicola. Però quando andavano criticati li ho criticati. Adesso che critiche si possono fare agli Ultras? Oggi c'è soltanto da sostenere la squadra. Lo stanno facendo. Chi non è d'accordo allora se ne andasse da un'altra parte. Qua non è questione di democrazia, di diritti o non diritti. Qua il problema è che c'è, ma non solo a Bari, in tutta Italia. Le curve nord sono tutte destinate. Purtroppo è così perché noi non abbiamo ancora il livello, non abbiamo raggiunto il livello dell'Inghilterra o della Spagna. Purtroppo la situazione è questa. Uno l'accetta oppure non va allo stadio, va da un'altra parte. Leo fermati un attimo. Pubblicità tra poco con il bianco e il rosso TV Sport. Terza ed ultima parte del bianco e il rosso TV Sport con il mio ospite l'ingestibile, possiamo dire, Leonardo Gaudi. È dall'inizio che mi stanno provocando, dai. Almeno io mi devo pur difendere perché se è vero che la gente invoca la democrazia, il contraddittorio penso che sia la cosa migliore. Se uno non accetta il contraddittorio è peggio per lui, insomma. Poi a proposito, non sento più da un po' di tempo, basta basta. Non è che l'hanno mandato in Afghanistan o da quelle parti, no? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Prendiamo una telefonata. Pronto? Pronto? Pronto. Buonasera. Io vorrei spiegare all'ospite, sono una tifosa del Bari. Vai. Questo è tutto da dimostrare perché tutti sono tifosi del Bari. Il dovere anche, in osseguo a quelli che sono i miei principi e le mie idee, ho la possibilità di dissentire in qualsiasi luogo, che sia in piazza, che sia in curva nord, che sia in curva sud. Per cui io, pagando il biglietto, perché questa è una cosa molto importante, io pago il biglietto e sono tra l'altro, sono in un luogo che è di proprietà del comune di Bari, che non è neanche dei mattarese, per cui io ancora di più devo poter dissentire e nessuno deve in qualche modo impedirmelo, anche con una sollecitazione, ma anche pagata. Io devo poterlo fare. Allora, lei, signora, ha tutto il diritto... Grazie per l'intervento. Perché la Costituzione, le leggi le conosciamo pure noi, cioè non è che noi veniamo dall'abisinia. Lei ha tutto il diritto di contestare, di protestare, di criticare, però non è il ruolo del tifoso, perché il tifoso è uno che sostiene la squadra e la sostiene sempre nel bene e nel male, nella buona e nella cattiva sorte. Quindi, se si contesta, se si critica, è una persona normalissima che ha tutto il diritto di farlo, questo sì, però non si deve chiamare tifoso, perché il tifoso è tutt'altra cosa. E certamente non è quello che bestemmia lo stadio o che fa dei cori offensivi di quel genere allo stadio contro un presidente che non lo merita. Per cui, lei può fare tutto quello che vuole, anche io sono contrario al fatto che gli ultras impediscano agli altri di poter criticare, però non si deve definire tifoso, perché il tifoso è colui che sostiene sempre la squadra e se la criticate, se avete tutto il diritto di farlo, ma non vi definite tifoso. Però, si può stare vicino alla squadra, ma anche... Assolutamente, non sono d'accordo, non è così. Anche contestare l'operato della società, se c'è qualcosa che comunque il tifoso non condivide... Assolutamente, ma non vi definite tifosi. Uno è libero di contestare... Ma se non paga il biglietto è anche libero di contestare l'operato della società. Sì, ma non si deve definire tifoso, perché il tifoso paga anche il biglietto, lo spero, però non deve definirsi tifoso. Non sono d'accordo, Leo, prendiamo un altro ascoltatore in linea. Questa è la mia opinione. Pronto? Pronto? Sì. No, io sono ancora in linea, per dire... Ah, mi scusi, no, non lo sapevamo. Però lei non si definisca tifoso. Leo, calma. Guardi, non consento che lei debba dettare una definizione. Lei non è nessuno per dire che è tifoso, che non è tifoso. Non l'ha detto calma. Io sono tifoso anche rimanendo a casa, pur non frequentando lo Stato. Signora, signora, io non faccio io le definizioni, le regole. Si va a leggere sul vocabolario la parola tifoso e veda il significato della parola tifoso. Non c'entrano gli Ultras, li mettono da parte gli Ultras. Si arroga il diritto di poter dettare delle regole allo stadio. Nessuno sta... No, le dico di più che io la stagione scorsa sono stata in tribuna con dei miei amici romani nella partita Bari-Roma. I miei amici romani, che sono stati zitti per tutta la partita, alla fine hanno preso due ceffoni da due tifosi, da due Ultras. Ma questo è sbagliato, è da condannare. E' da condannare. E' perché mi ha risposto un ex capo Ultras, che ha un locale a Barivecchia, ma che sei andato a fare in tribuna. Potevi vedertela a casa con i tuoi amici. Per me questo è veramente proprio la negazione, la negazione di qualsiasi diritto. E anche proprio del regolo. Cioè il calcio, il calcio è un momento aggregativo. Questo dovrebbe essere nella norma, però purtroppo in Italia le regole non sono mai rispettate, non solo all'interno degli stadi, ma anche fuori dagli stadi. Per cui, allora dovremmo fare un discorso generale, e qui ci vogliono 12 ore di trasmissione per poter parlare di questo. Io non sto giustificando gli Ultras che impediscono agli altri di criticare o di protestare. Sto dicendo che chi va in curva nord, purtroppo le regole non scritte sono queste, o si adegua o si sta zitto. Se poi vuole contestare, deve andare da un'altra parte e sta più tranquillo. Se deve contestare una squadra o un presidente di una società, non può definirsi un tifoso. Perché? Non perché lo dico io. Perché la parola tifoso ha un altro significato. E quindi queste sono le cose che dico io. Per cui, ecco, non vado contro le regole, non vado contro nessuno. Mi adeguo soltanto al significato vero delle cose e delle parole. Il tifoso può anche contestare. Io sono tifoso e poi contesta società e squadra. Ma il tifoso può contestare? No, può contestare, ma non è un tifoso. Questo è tutto. Poi una persona è libera di contestare, è chiaro. Leo, tu ovviamente hai sposato anche la linea societaria dei Mataresi. A cento per mille, ma non perché i Mataresi hanno bisogno del mio sostegno, della mia difesa. Perché oggi bisogna essere grati a questa famiglia. Perché hanno garantito in una città che diversamente non l'avrebbe meritato, 33 anni di calcio a livello professionista. Sono state fatte cose più buone e meno buone. Ma indubbiamente. Perché qui c'è un'anomalia. Scusami, no, perché è importante parlare anche di questi discorsi per non essere ripetitivi nelle trasmissioni. Qui c'è un'anomalia di fondo. C'è una piazza che si definisce grande e ha tantissime esigenze. È una società che invece pensa soprattutto ai bilanci. Perché è importante, se no fai la fine del Bologna o di altre società gloriose con 7, 8 e 10 scudetti che rischiano di andare in serie B. Per cui, se noi aggiustassimo un po' il tiro e considerassimo la piazza una piazza da provinciale, una piccola piazza, e la mettessimo in linea con quelli che sono gli obiettivi e le potenzialità di questa società, staremmo tranquilli oggi. Sì, ma qua nessuno chiede la luna, però certi investimenti... No, non chiedono la luna, chiedono la luna, Marte, perché è bastato che l'anno scorso... Certi investimenti vanno fatti però, altrimenti si continua a vivacchiare. Ma sì, vanno fatti qualora uno è in grado di poterli fare, ma se uno in quel momento non è in grado di poterlo fare non può andare a svenare per poi trovarsi con i bilanci negativi e andare in fallimento. Ma vogliamo scherzare? C'è soltanto da apprezzare, secondo me, perché... Guarda, ai Mataresci si può... Quello sicuro, però se mantieni la società di calcio devi fare di tutto per farla comunque crescere e far andare bene. Sì, indubbiamente, Cristian, però a questa società si può dire che ha fatto scelte sbagliate, non sempre sono state indovinate, però nella gestione del bilancio è la numero uno in Italia, la numero uno insieme alla Juventus, per cui almeno questo va riconosciuto.